C'è l'allenamento con un'immersione dell'acqua ghiacciata, fa un freddo porco, rock and roll. Bene, ci facciamo un po' di corsa, che fa bene. Questo è l'allenamento che si fa quando si viene qui. È bella dura, eh ragazzi? È ossigenata la cosa. Ve lo mostro perché, credetemi, è divertente ma allo stesso tempo è bella dura. Però si fa temperare il corpo è fondamentale. Quindi, amici, è molto importante questo allenamento per mantenere il controllo del fisico, del mentale e del fisico. It's stronger, but it's good. It's hard, eh? It's hard here in sunny Slovakia. Yeah. Let's see if Danilo survived this. Yeah. Yeah. Very strong. Be careful. Move very slowly. Yeah. Because it's like between many, many knives. Yeah. Oh my God. It's a lot of anesthesia, so you don't care of anything. Yeah, I'm going to go to the right. Yeah, I'm going to go to the right. Just a little bit of space for me. Like a orthodox training. Oh my God. Very difficult. Just breathe. Yeah. You can get the picture as well. Yeah. Rock it all. My fault. Hello. Abbiamo fatto il bagno nel lago ghiacciato. È stata dura. Fa un freddo porco. Ma bene così. Rock and roll, guys.